La Ministra Santanchè, sulla base di quanto è emerso, dovrebbe ragionare su possibili dimissioni? Io non ho la minima idea di quali siano i fatti che siano stati accertati o che siano in corso di accertamento. Dico una cosa in via generale. Uno dei problemi principali dell'Italia è quello di rimettere sempre alle decisioni dell'autorità giudiziaria l'accertamento dei fatti. I fatti possono essere valutati se hanno rilievo penale in un processo penale oppure possono essere valutati in altra sede se non hanno rilievo penale o anche se hanno rilievo penale possono essere valutati anche in altra sede. Rimettere sempre le decisioni dell'autorità giudiziaria significa rendere la politica incapace di autoemendarsi. Quei giovani di destra di quegli anni sostenevano il pool di mani pulite, non erano molto garantisti ma lo spiegavano anche con una loro idea di continuità. Cioè bisogna essere rigorosi, durissimi contro chi evade, contro chi ruba, contro chi è coinvolto nelle ruberie di Tangentopoli. A lei stupisce e vede anche lei questa discontinuità fra i giovani del 93, del movimento sociale e quelli di oggi di gioventù nazionale? No, a me stupisce di dover sempre avere conferme dello spirito di fazione che c'è in questo Paese. Sono tutti garantisti rispetto ai propri sodali e tutti ferocemente giustizialisti verso quelli dell'altra parte. Questo è una cosa assolutamente irragionevole ed è caratteristica dell'Italia, non di altri Paesi. Io ho sempre fatto questa considerazione. Ma se ruba uno che ho votato io, sono io che mi devo arrabbiare perché ha ingannato me. Se ruba uno della fazione opposta, ha ingannato i suoi. E quindi invece l'Italia va alla rovescia, come in molte altre cose. Un giudizio su quanto si sa al momento della riforma e cos'è la cosa che la convince meno? Tra immagino le tante. Sono quasi tutte a mio giudizio sbagliate e vengono presentate in modo assolutamente fantasioso. Faccio un esempio. Negli Stati Uniti esiste davvero una procedura, peraltro rarissima, in cui l'imputato, per essere arrestato, viene convocato davanti al giudice, lo citano davanti al giudice, per sapere se devono arrestarlo. È rarissima perché normalmente negli Stati Uniti, per le feloni, cioè quelli che noi chiamiamo delitti, il processo comincia sempre con l'arresto dell'imputato. Sempre. Cioè la polizia quando ritiene uno colpevole lo arresta, non come da noi con l'arresto in flagranza. Quando lo ritiene colpevole lo arresta, punto. Poi lo porta avanti al giudice che decide se tenerlo in carcere o scarcerarlo con cauzione. Può capitare, dirado, ma può capitare, che la polizia non trovi l'imputato, oppure che in quel momento non abbia ancora le prove. Allora c'è questa curiosa procedura, molto rara, in cui il pubblico ministero cita l'arrestando davanti al giudice per decidere se bisogna arrestarlo. Un collega che aveva assistito, un collega italiano che aveva assistito a questa procedura, si era meravigliato non poco e aveva chiesto al giudice statunitense ma quello che citate viene? E il giudice americano gli ha risposto ci mancherebbe che non viene. Ecco, in quella risposta c'è la differenza fra i due sistemi. Primo, perché se non si presenta intanto lo condannano per oltraggia alla Corte, cosa che in Italia non c'è. Secondo, perché i latitanti negli Stati Uniti sono merce rara. Perché cosa succede? Che quando uno viene scarcerato su cauzione, normalmente, siccome non prevedeva di essere arrestato, se no non si sarebbe fatto arrestare, non ha con sé i soldi per pagare la cauzione. Ci sono delle società specializzate che pagano la cauzione. Queste società pagano la cauzione dietro firma di un contratto in cui l'imputato si impegna a pagare gli interessi e a presentarsi al processo. Se si presenta al processo la cauzione viene restituita, se non si presenta al processo la cauzione viene incamerata dallo Stato. Allora, i dipendenti di queste società, col solo documento di legittimazione che è la fotocopia del contratto, possono cercarlo, fargli irruzione in casa, arrestarlo, portarselo in giro incatenato. A me è capitato di vedere all'aeroporto di Los Angeles, ero con un agente del FBI, un privato che andava in giro con uno incatenato e come documento di legittimazione che portava una persona in catene aveva la copia del contratto. Questi arrestano il 70% dei latitanti, per cui le forze di polizia si concentrano sul residuo 30% e prendono quindi quasi tutti. Non so se è il sistema che prenderei proprio... Se mi piacerebbe, come dire, importarlo. Non lo so. Ecco, allora, è chiaro che se là è una procedura del tutto eccezionale, renderla qui ordinaria è un non senso, perché la maggior parte delle persone convocate per essere arrestate se ne andrebbero all'estero, subito. Cioè, soltanto un demente rimane qui se deve andare lì a discutere per essere arrestato, no? Sono uscite le motivazioni della sentenza con cui il Tribunale di Brescia l'ha condannata a 15 mesi per la vicenda dell'indagine sulla loggia Ungheria. Si è scritto nelle 111 pagine della sentenza, insomma, la si accusa di aver smarrito la postura istituzionale, di aver agito come non avrebbe dovuto. Le chiedo se non si rimprovera proprio nulla di quanto è accaduto in quei mesi di verbali e di interlocuzioni carbonare, come sono state definite la sentenza. Assolutamente no. Ho fatto le cose che dovevo fare nell'unico modo in cui era possibile farlo, data la situazione. Alla Procura di Milano non erano per 5 mesi state effettuate le iscrizioni, neanche di quelli che si erano presentati dicendo io faccio parte di questa associazione segreta. Ora, l'articolo 335 del Codice di Procedura Penale dice che le iscrizioni devono avvenire immediatamente. Mettiamoci pure che l'immediatamente va inteso nel tempo che ci vuole. però 5 mesi sono un po' troppo. E soprattutto se si segreta per dire che è necessario fare le indagini, poi bisogna fare le indagini, ma se non si iscrive non si possono fare le indagini. Quindi era pure opinabile che fossero segrete quelle questioni. Detto questo, ovviamente ritengo quella sentenza sbagliata, ma per rispetto alla Corte d'Appello quello che ho da dire lo dirò nei motivi d'Appello.